Vittorini gioca e poi sceglierò due dei tre. Vediamo anche oggi un po' di situazioni. Facciamo una cosa, sicuramente gioca Fornasia. Sarà una partita in cui, visto anche l'avversario che sfrutta determinate caratteristiche, bisognerà stare molto attenti. L'attenzione è che il più delle volte c'è sempre stata e in questo ultimo periodo c'è di meno e quindi bisognerà stare molto più concentrati, attenti a determinate situazioni. Come ho detto l'altra volta, ovviamente dobbiamo provare a vincere ma dobbiamo soprattutto non perdere. Questa è una legge di domani. Ma io ci voglio vincere, noi vogliamo vincere. Non ci dobbiamo sbilanciare. Lo so che non c'è mai stato un grande feeling tra lui e l'ambiente. Ma se noi andiamo a vedere la storia, lui è certamente un allenatore preparato, è certamente un allenatore molto bravo sul campo. Però poi la storia dei calciatori, come la storia degli allenatori, ci racconta storie di allenatori bravissimi che magari hanno fatto non benissimo in determinati ambienti. Quello che voglio dire è che probabilmente l'anno scorso i miei meriti più grandi sono stati i progressi fatti sotto il profilo mentale, sicuramente non tecnico. Perché non è che puoi fare chi sa che. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, sono sempre stato super disponibile con lui e lui l'ho stato con me. Quindi non c'è mai stato nessun tipo di problema. E' vero che in diverse circostanze durante l'anno è alleggiato il mio nome sulle testate giornalistiche e non solo quando magari i risultati non erano idiliaci. Penso che sia una cosa che fa parte del calcio e se una persona è sicura di sé, del suo lavoro, non si fa condizionare da queste cose. Anche e soprattutto perché è la normalità.